Sky TG24 nel mese di febbraio aveva già proposto un servizio realizzato sulle sponde del Tevere per mostrare la città nascosta degli emarginati, una città fatta di tende, capanne di cartone e rifugi improvvisati come questi. Osservando bene le immagini ci siamo resi conto di aver ripreso anche Massimo Galiotto, il senza fissa dimora sospettato di aver prima malmenato e dopo gettato nel fiume Capitolino Bo Solomon, lo studente americano che nella città eterna ha vissuto appena 16 ore. E' lui perché riconosciamo il suo giubbotto da motociclista e il suo inseparabile cane Briscola. E' gentile e ci dà alcune informazioni su come arrivare a San Pietro. Queste immagini sono state girate all'altezza di Ponte Mazzini, probabilmente era lì che si trovava fino a qualche mese fa Galiotto, prima di spostarsi poi sotto Ponte Garibaldi, che appariva così. Ed è proprio in questo punto del Tevere che qualche mese dopo lo studente americano è poi annegato, secondo quanto emerso dalle indagini, dopo un litigio con Galiotto. Federico Sisimbros, Sky TG24.